Solar Plus e Trentino Volley, insieme con inesauribile energia. Noi stiamo cercando di costruire un modulo di gioco, perché abbiamo cambiato due centrali rispetto all'anno scorso, abbiamo cambiato il libero, per cui il nostro intento in questo periodo è di consolidare alcune basi, di dare delle certezze, soprattutto in seconda linea, per riuscire a costruire un gioco che sia più possibile efficace. Una prima parte di stagione che rispecchia un po' le attese, siete lì in cima alla classifica? Sì, come ripeto il nostro intento è di far bene, far bene anche per un secondo motivo, perché dobbiamo cercare di fare più punti possibili in questa prima fase per dar modo poi alle giovani che ci sono sotto di entrare in campo anche loro. Un campionato comunque di Serie C quest'anno molto equilibrato, perché se si abbassa un attimo la tensione si può vincere ma anche perdere un po' contro tutti. Sì, si è dimostrato anche per esempio nella partita che abbiamo fatto mercoledì scorso contro il Mezzocorona, dove abbiamo fatto i primi due set a un buon livello senza fare grossi errori. Il terzo set è bastato fare un piccolo cambio e così, ma non per togliere niente a chi è entrato, ma perché ha tolto forse quelle poche certezze che stiamo costruendo e ha creato qualche problema che è sicuramente risolvibile, però in questo momento forse è meglio cercare di dare maggiori certezze a questo sestetto per riuscire poi a inserire gli altri in una condizione più semplice, dico io.